Benvenuti, nel video di oggi parleremo di una tragedia avvenuta in una spiaggia della Sardegna. Ma prima di iniziare il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui nuovi contenuti in uscita. Una tragica vicenda si è consumata sulla pittoresca spiaggia di Bados, situata tra Olbia e Golfo Aranci, dove un'esplosione ha sconvolto la tranquillità di una giornata estiva. Un angelo di soli dieci anni ha perso la vita in seguito all'improvviso scoppio che ha coinvolto il camper in cui si trovava insieme alla sua famiglia, gettando nello scompiglio i presenti e le squadre di soccorso a corse prontamente. L'incidente, che ha provocato un incendio di vaste proporzioni, ha richiamato l'intervento di mezzi aerei e di coraggiosi vigili del fuoco che si sono impegnati a tenere a bada le fiamme divoranti. I cieli sono stati oscurati da dense nuvole di fumo nero, creando un'atmosfera tetra e cupa sulla splendida spiaggia. Le prime analisi indicano che l'esplosione potrebbe essere stata causata da una fuga di gas proveniente da una bombola utilizzata per le attività culinarie all'interno del camper. Questa teoria, tuttavia, dovrà essere confermata dalle indagini in corso, che coinvolgono carabinieri, personale medico del 118 e unità specializzate del corpo forestale. Il tragico episodio ha attirato l'attenzione di coloro che si trovavano sulla spiaggia in quel momento. Molti bagnanti sono stati testimoni dell'orribile accaduto e hanno raccontato di aver udito due potenti voati consecutivi. Un suono assordante che ha fatto tremare l'aria. Questi suoni, riconducibili alle bombole di gas, hanno gettato nel panico le persone in zona, lasciando una scia di shock e sgomento. Tra le scene di confusione e preoccupazione, gli operatori di soccorso hanno trovato una donna in stato di shock. Si presume che possa essere la madre del giovane angelo che ha perso la vita nell'esplosione. La sua angoscia e disperazione si sono unite al dolore collettivo di coloro che sono stati colpiti da questa tragedia senza precedenti. Questa spiaggia, che un tempo era un luogo di gioia e spensieratezza, è ora segnata da un evento che ha spezzato cuori e ha lasciato un'impronta indelebile nella memoria di tutti coloro che sono stati testimoni di questa terribile sciagura. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale. Attiva la campanellina per non perderti le ultime notizie. A presto!